Non fai schifo Che passa, che passa, che passa Pian Pian Che fai party? Oddio E dai, dai, muoviti, muoviti Ragazzi, abbiamo visite Dipendio sindacale al minimo in nero Contributi ridottissimi Pensione completa, ovvero vitto e alloggio Bene, che dite, che fate? Prendiamo Efficienti, ignoratele Ma non capite che sono venute per fregarci Buongiorno Dobbiamo partire per una missione Una missione di guerra Sì Ha fatto venire tre extra comunitarie Per ammazzarci Per farci fuori, ma lo capite? Sì, in modo c'è, c'è Che farebbe? Pagare Vecchi rimbambiti Grazie a tutti Grazie a tutti.